Numero 9, Simone Baldini, numero 10, Roberto Bonaventura e numero 11, Riccardo Piacentini. A disposizione con numero 12, Gertulessi, 13, Pane, 14, Mannella, 15, Mustavi, 15, Ferrari, 17, Di Dio, 18, Daidone, 19, Righetti, numero 20, Sintus. Grazie a tutti. Buona, 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 buona. Buona, buona, buona. Buona, 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 bu Grazie. Grazie. Grazie mille cuore a tutti. Grazie. 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 Grazie.